ciao a tutti ragazzi eccoci qua anche oggi con un nuovissimo video che sono contentissimo di poter fare perché ogni volta che mi arrivano dei vostri regali io sono la persona più contenta di questo mondo e oggi sono andato praticamente questa mattina vabbè sono andato ieri mattina poi sono dovuto tornare stamattina all'ufficio postale perché come sapete purtroppo in posta è sempre un casino ci sono sempre dei problemi e anche questa volta ci sono stati dei problemi volevano farmi pagare per il ritiro di un pacco alla fine fortunatamente non ho pagato ma non è ancora detta l'ultima parola perché potrebbero chiamarmi da un momento all'altro e dirmi guarda che devi pagare e a quel punto potrei sclerare malissimo comunque mi è arrivato questo pacco direttamente dalla svizzera questo pacchettino che non è grandissimo ma pesa un sacco infatti credo ci sarà dentro un sacco di roba e me lo manda letizia che mi ha già mandato un altro pacco spero di riuscire a recuperare quel video e se mai ve lo lascio qui sopra con delle cose carinissime che ho strautilizzato e adesso sono proprio curioso di vedere cosa mi ha mandato in questo nuovo pacchettino come sempre l'ho già aperto ma non ho guardato dentro solamente aperto lo scotch quindi vado ad aprirlo insieme a voi e a vedere wow cosa c'è dentro ci sono un sacco di pacchettini oddio aspetta che qua inizia già a cadere qualcosa un sacco di pacchettini tutti impacchettati singolarmente tutti rossi con una carta con dei decori dorati wow che meraviglia io sto già amando questa carta iniziamo da questo che è un bigliettino chiuso dentro una bustina bellissima con degli unicorni se vedete gli unicorni sono sulla bustina ma io vado ad aprirla vediamo se è solamente un bigliettino o se mi ha scritto all'interno qualcosa perché vedo anche che c'è tipo una letterina quindi vediamo ah no sono delle cartoline ma che bello a me che piace la neve che piace l'inverno ma cioè tu vuoi dirmi che vivi qua perché questa ragazza è della svizzera mi ha mandato queste cartoline che però ragazzi non so leggerlo hotel sailor zermatt non so la pronuncia questa è una cartolina disegnata questa non è una foto è un disegno appoggio cui così non rovino nulla poi mi ha mandato questa sempre zermatt quindi penso che zermatt sia proprio questo posto sopra questa montagna guardate che meraviglia ma letizia tu vuoi dirmi che vivi qui perché se vivi qui mi trasferisco da te deve essere bellissimo se d'estate che d'inverno e qui invece ci sono vari paesaggi di montagna su un'unica cartolina veramente super belle queste qua però per non rovinarle le rimetto subito nel sacchettino unicorno dietro non c'è scritto nulla no infatti mi ha regalato semplicemente le cartoline le rimetto via subito così non le rovino perché io sapete che conservo sempre tutto e poi ho visto che c'è questa letterina andiamo ad aprirla e mi scrive caro manuel ciao come stai io bene questi sono dei piccoli tanti regalini importante prima di spacchettare tutto devi rispondere indovinare dagli indizi forse troppo difficile beh insomma prima di troppo difficile ok penso sia difficile però ci proviamo per favore si sincero quando mai non sono sincero ragazzi mi dispiace per la carta regalo perché ti dispiace non so cos'altro dire da letizia per mano ma è bellissima la carta regalo a me piace un sacco fosse solo rossa un po meno ma con tutti questi dettagli ora è bellissima e poi dietro mi ha fatto questo bellissimo unicorno guardate che bello che io penso non sarei mai in grado di fare un disegno del genere perché a disegnare sono spastico è bellissimo grazie mille ma poi ti ringrazierò anche alla fine quindi il primo pacchettino è questo qui dove c'è scritto ti renderà più bello che cosa potrebbe essere vediamo secondo me una maschera per il viso vediamo se ho indovinato io strappo brutalmente tutto questa volta ho indovinato ho indovinato maschera all'aloe vera con estratto di liquirizia e invece gli altri sono dei patch per gli occhi quindi vi siete accorti che ho le occhiaie o le borse sotto gli occhi e io che pensavo non si vedesse mi ha regalato questi patch da mettere sotto gli occhi che io li uso tantissimo infatti vi avevo già mostrato che li compravo da primark ma questi qua sicuramente saranno fatti molto meglio che non costeranno di sicuro un euro e cinquanta di quindici applicazioni e poi c'è questa maschera l'aloe vera di bici non vedo l'ora di provarle anche perché queste cose le uso veramente tantissimo nel secondo pacchettino c'è scritto è la tua preferita sempre con questa carta qui sono tutti impacchettati così è la mia preferita mi verrebbe da dire poca ontas così piccolina sì secondo me è una poca ontas di asbro spero non una che ho già proviamo ad aprirla vediamo se no che potrebbe essere no dai poca ontas per forza sì è lei è lei cavolo questa qui ce l'ho già beh chi se ne frega questa qui la terrò chiusa non la vado ad aprire così so che è quella che mi ha regalato tu e la tengo da parte perché è uguale quella che ho io adesso mi viene il dubbio sì mi pare che abbiano fatto solo questa versione è questa qui che penso di averla già effettivamente però come ripeto la terrò chiusa così sono sicuro che questa qui non si rovinerà mai perché quella che mi ha regalato tu quindi grazie mille lo stesso andiamo avanti questo è ispirato a una montagna cosa potrebbe essere di questa forma ispirato a una montagna se vedete tipo a base triangolare ispirato a una montagna non mi viene in mente niente giuro però sembra tipo una cosa rigida all'interno di una confezione giuro che non mi viene in mente niente io provo ad aprirlo perché veramente non è cibo è cibo giuro non mi sarebbe mai venuto in mente anche perché non sapevo fosse ispirato a una montagna ed è il toblerone giuro non avrei mai indovinato questa volta avrei perso cazzarola e questo è cioccolato al latte con miele non vedo l'ora di provarlo voi mi volete grasso perché io cerco di mangiare bene no c'è tra meccano le burger king insomma diciamo che ogni tanto cerco di mangiare bene ma ogni volta in un vostro pacchetto c'è sempre qualcosa da mangiare e sono sempre cose buonissime questa qui invece sono dolce sono dolce fatto così sembrerebbe quasi una vaschettina di qualcosa rigida ah no forse non è una vaschettina sono delle stecche di cioccolata poi dalla svizzera cioè sarebbe una cosa giustissima proviamo ad aprire oddio cos'è no queste cose non le ho mai viste sono una novità vediamo no vabbè potrei morire guardate c'è questa che non ho ancora ben capito cos'è ma questa qui la assaggio subito perché sono curioso perché già leggo roba buona con le nocciole e poi la cioccolata alla gianduia wow madonna voi mi volete uccidere comunque intanto siamo tre a uno perché ne ho indovinate tre però questa qua devo assaggiarla subito non posso aspettare che figata è fatta a pezzettini è già divisa in pezzettini solo in svizzera ci possono essere queste cose così belle no vabbè c'è le nocciole intere all'interno e in più se guardate è tipo due colori non lo so adesso provo subito ma è morbido ma questa roba cioè è cioccolato con all'interno delle nocciole e del caramello credo mamma buonissimo no non ce la faccio devo mangiare un altro mamma che buono vi assicuro è una delle cose dolci più buone che abbiamo mangiato mi fanno ridere perché fanno vedere che c'è il pacchettino richiudibile ma secondo voi questo quanto durerà se riesce ad arrivare alla fine del video è già tanto ma io ho il dubbio che qui ci sia altra roba da mangiare l'avevi già aperto l'avevo già aperto questo qui è il pacchettino ma cos'è che avevo già aperto no vi giuro non so indovinarla questa mi sa che ti do un altro punto ah un lost kitties di quelli che wow un lost kitties no vabbè questo qui lo apriamo in un prossimo video insieme così vediamo chi c'è all'interno è un lost kitties se non sbaglio della prima serie perché adesso quelli rifatti hanno tipo il barattolino con dentro quelle specie di gelato grazie mille questa qua l'apriamo sicuramente in un prossimo video lo spacchetterai e lo spacchetterò sì perché la forma sembrerebbe quasi una candelina ah ma forse quello che c'è all'interno devo spacchettarlo cacchio quindi mi sa che ti dobbiamo a 3 a 3 perché non saprei dirti cosa c'è qui dentro cosa può essere allora io dico tipo un play doh ma secondo me ho sbagliato di grosso no non ho sbagliato completamente un altro lost kitties ma di un'altra serie che questa ragazzi la prima volta che la vedo l'ho vista nei negozi me l'avevo mai acquistata quindi grazie mille sono contentissimo di averla così posso vederla anch'io è questa qui fatta a forma di biberon quindi dai diciamo che siamo 3 e mezzo a 2 e mezzo il play doh l'ho indovinato quindi siamo sì 3 e mezzo a 2 e mezzo cavolo stai rimontando però non va bene andiamo con quest'altro pacchetto che è gigante è un po croccante quindi anche questo qui credo che sia da mangiare un po croccante abbastanza leggero che siano tipo quelle cose il sesamo quelle barrette di sesamo non lo so ragazzi non lo so ok basta mi do già per perso tanto ho già perso io apro oddio cos'è sta cosa già dall'immagine qualcosa di meraviglioso solo che è scritto tutto in tedesco io ovviamente non capisco una minchia di tedesco però guardate già l'immagine qui la vedete meglio deve essere una cosa meravigliosa ok andiamo all'ingrasso ma perché ci sono tutte queste cose che sono buone solo a vederle no guardate che belli che sono sono tipo dei biscottini ma credo che abbiano all'interno no aspettatevi prego non ditemi che tipo è una meringa con ripino di crema alle nocciole no vabbè io adoro la meringa cioè io vivrei di meringa ho capito che finito questo video scenderò dalla sedia rotolando proviamo madonna dove si comprano ne voglio un quintale madonna che buone no vabbè dai l'ultima perché sennò non vado più avanti ma sono buonissime ste cose vi prego se qualcuno sa dove posso acquistarli qui in italia me lo dica che sono questi qui vi scongiuro fatemelo sapere se no inviatemene un camion insomma facciamo uno spaccio illegale di questa cosa buonissima dopo metto a cercarla online rimangono gli ultimi tre pacchettini a scuola mi usavi tanto beh credo sia una penna dai se non è una penna sono proprio stupido si è una penna è una penna della svizzera che carina che è ma dai con tutto il disegnino dietro aspetta che tolgo il codice a barre così ve lo mostro meglio dopo lo vado a togliere bene è una penna da una parte scritto svizzera e dall'altra invece ci sono quei disegnini classici svizzeri sì non riuscirò mai a farvelo vedere un momento che mi avvicino di più se vedete da questa parte c'è questo disegnino che a me piacciono un sacco questi disegnini bellissimo veramente bella grazie mille poi le penne non sono mai abbastanza allora mancano le ultime cose una c'è scritto è buonissimo e a te piace e nell'altra sono rainbow io direi di aprire prima il è buonissimo e a te piace perché credo che sia cioccolato bianco ho la sensazione che possa essere cioccolato bianco andiamo ad aprire no 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 io sento già la pancia che mi cresce allora c'è cioccolato svizzero che è penso cioccolato al latte sì fatto così questo qui penso che sia cioccolato al latte semplice poi c'è il cioccolato bianco della lind mio dio potrei svenire che adesso non posso aprire tutto assaggiare tutto perché ho già aperto due cose che stasera saranno finite e poi c'è questo che non ho capito come si dica questa cosa ovo maltine però è cioccolato crunchy credo che sia una cosa simile alla nostra milka bubble cos'è quella avete capito e non vi viene voglia di mangiarlo già solo a guardarlo io divento matto mio dio guarda quanta roba c'è devo ancora finire di mangiare tutte le cose che mi ha inviato flora e ho altra roba da mangiare e adesso resta l'ultima cosina sono rainbow piccolina è questa qui cosa può essere rainbow ho paura a schiacciare troppo perché non vorrei rompere non lo so ragazzi ok tanto ho già perso quindi dai che belle queste qui le mangiavo sempre sono quelle rotelle di caramella quelle arrotolate tutte colorate arcobaleno che frizzano in bocca buonissime che me le avevo mandate anche flora se non sbaglio le avevo comprate io ragazzi non comincio a non capirci più niente più adesso ho tipo tutto lo zucchero di questa cosa che mi dà la testa anzi mi prendo un'altra meringhetta perché mamma che buone non potete capire vi giuro non potete capire due meringhe con la crema di nocciole all'interno e le noccioline sopra wow e queste ragazzi erano tutte le cose che mi sono state regalate da Letizia che ringrazio ancora tantissimo grazie veramente un sacco non vedo l'ora di vedere in un prossimo video questi due qui vedere chi c'è qui dentro in questo Lost Kitties e soprattutto di vedere questi qui nuovi che per me sono nuovi che non ho ancora mai visto adesso sicuramente mi tengo già questa maschera in mano perché devo andare a lavarmi quindi appena finito la faccio subito e veramente grazie mille grazie mille poi cioè mi hai fatto scoprire questa cosa mi ci sto drogando di questa cosa è fantastica quindi ragazzi io ringrazio ancora Letizia veramente tantissimo e basta perché sennò dopo sto qua ringraziarti e faccio due giorni di video solo per dirti grazie spero come sempre che questo video vi sia piaciuto che almeno vi abbia tenuto compagnia fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate se qualcun altro vuole mandarmi qualcosa a volte me lo chiede su Instagram a volte me lo chiede in direct insomma in generale comunque trovate sempre qui sotto l'indirizzo a cui spedire un pacco una lettera quello che volete io sono contentissimo infatti sono un attimino svarionato comunque voi lasciatemi qui sotto un like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi anche su Facebook e su Instagram io ragazzi vi saluto vado a diventare un ciccione mangiando tutte queste cose vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video